Ciao e benvenuto sul nuovo sito di Cassa Corporation In questo brevissimo video ti spiegherò che cosa ho cambiato e che cosa ho migliorato nel nuovo sito Come puoi vedere i menu in alto sono rimasti pressoché invariati Tuttavia è subentrato questo nuovo menu che si chiama Eventi Quando passerai sopra un menu che ti interessa Comprerai un piccolo banner che ti indicherà che cosa è contenuto dentro il menu E quando vorrai leggere un articolo che ti interessa Non basterà altro che cliccare sull'articolo che vuoi leggere Attendere che si carichi questa pagina E se puoi vuoi continuare con la lettura Cliccare su Continue Reading Il pulsante Home ti riporterà sempre alla Homepage Ecco qua E poi andiamo a vedere che cosa ho migliorato Sicuramente da tenere in considerazione La possibilità di condividere qualsiasi articolo Basta semplicemente cliccando sulla parte ineretto su qualsiasi social network che ti piace Esempio Facebook, Twitter, MySpace, Dig, Buzz Oppure inviarlo via email ai tuoi amici Un articolo da tenere sempre a sott'occhio è questo qua sulle News Cliccando sui Games News Accederai a tutte le news più importanti E del momento che stanno accadendo in questo momento Le troverai riportate direttamente dalla mia pagina Facebook Senza che tu sia iscritto Facebook o sia connesso ad esso Se non hai messo mi piace sulla mia pagina di Facebook Lo puoi fare direttamente qua cliccando mi piace Quando compariranno dei riquadri video Quando è disponibile basterà vedere il video cliccando su Play Oppure andare a cliccare il link per aprire YouTube a parte e guardare il video Torniamo all'home page e ti faccio vedere qualcosa di interessante che ho messo nel nuovo sito Vale a dire il calendario uscite giochi ed eventi In questo calendario ci saranno tutti gli eventi ai quali parteciperò E tutte le uscite dei giochi Gli eventi sono in bianchetto Mentre le uscite dei giochi sono in azzurro Quando troverai un pulsante quadratino a fianco dell'uscita del gioco Vorrà dire che il gioco è un'esclusiva della PS3 Mentre quando troverai il pulsantino quadratino a verde Vorrà dire che il gioco è un'esclusiva per la 360 Se vai a View Calendar Troverai un riassunto di tutto il mese Di quello che accadrà nel mese in corso Mentre se vorrai cambiare mese Basterà cliccare su i mesi e scorrere il calendario In più se vuoi potrai sottoscrivere il mio calendario al tuo In questo modo accopierai due calendari E quando io modificherò o pubblicherò un nuovo evento Ti sarà inviato un'email direttamente sulla tua casella di poste Torniamo alla home Se hai qualche domanda da farmi o da pormi Su ogni pagina troverai un modulo per un invio delle mail Troverai nella home page un riassunto dei like che ho su Facebook Un riassunto di quello che sta accadendo sul mio Twitter Il totale delle visite del sito E in più una slide show di tutti i miei video Per vedere i video basterà cliccare su play Qua troverai tutti i vecchi inserimenti degli articoli che ho fatto E qua troverai gli articoli un po' più recenti Spero che il nuovo sito ti piaccia E se vorrai commentare o eventualmente in un futuro anche collaborare con me Non basterà che cliccare qua su registrati Inserire il nome utente Cioè il nick che comparirà sotto i commenti Inserire la tua email Convalidare con il codice CAPTCHA E registrarsi Seguire le istruzioni che ti verranno inviate via mail E da qui in poi potrai commentare e collaborare con me E soprattutto potrai rimanere sempre in contatto via mail Quando sarà pubblicato un nuovo articolo O quando sarà modificato una data sui calendari O quando sarà pubblicato un nuovo articolo